La mostra dedicata a Dante, nell'occasione del settimo centenario della sua morte, è ospitata nelle sale antiche della Biblioteca Civica Gambalunga. Qui ci troviamo nella Sala de Verger. In questa teca è esposto il Codice gradenigliano, preziosissimo testimone di fine 300, inizi 400, dell'amore per Dante e la Commedia, trascritta dal nobile veneziano Jacopo Gradenigo, affiancata dal commento e nei primi otto canti dell'Inferno illustrata da suggestive miniature. Il Codice è in Biblioteca da fine 700, l'ascito testamentario del Cardinal Giuseppe Garampi.